Incidente nella serata di venerdì 8 marzo intorno alle 18 in corso indipendenza arriva a Rolo Canavese, coinvolto una lancia Ypsilon con a bordo due giovani e una Fiat Punto condotta da una donna. Secondo una prima ricostruzione la Punto avrebbe urtato l'Ypsilon che era ferma per poi terminare la sua corsa contro il camion cisterna per trasporto e liquidi infiammabili che aveva appena rifornito il distributore di carburante dell'IP. Sul posto sono intervenuti la crocerossa di Cornier, la polizia locale, i vigili del fuoco di Rolo Canavese e i carabinieri. Ferita la donna a bordo della Ypsilon, illesa ma sotto shock la conducente dell'altra vettura. I mezzi sono stati messi in sicurezza, l'accertamenti sulla dinamica del sinistro a cura delle forze dell'ordine. Grazie a tutti.